Quando si pensa alle navi nell'antica Grecia, in particolar modo alla flotta e alle battaglie navali, bisogna sempre pensare che questo tipo di atteggiamento non era molto considerato dai greci, se non poi da alcuni tipi di greci nell'età fondamentalmente classica. Infatti sicuramente si può parlare appunto di uso di navi già in età arcaica, lo stesso Omero appunto all'interno dell'Iliade parla di questa spedizione fondamentalmente dove dunque per andare appunto dalla Grecia fino a Troia in Asia Minore c'è una spedizione attraverso navi, quindi ci sono diverse navi greche che partono e arrivano a Troia. Ovviamente però attenzione, queste navi sono solo navi che trasportano gli uomini non già pensate per combattere in mare, questo è un presupposto. Ora, qual è il secondo presupposto? Il secondo presupposto è che la cultura greca tendenzialmente aveva sempre paura del mare perché c'era il rapporto con la divinità, in particolar modo considerava il mare un rischio importante, infatti il mare era collegato a Poseidone e i greci avevano timore di navigare perché sulla base di, nella credenza medica, comandava Poseidone ci potevano essere tempeste oppure no, quindi in questo senso il mare era un qualcosa di nemico, di pericoloso, tendenzialmente da evitare se possibile. Gli unici che tentarono a poco a poco di costruire una vera e propria flotta furono gli Atenesi, gli Atenesi che dunque in realtà furono i primi a partire dall'età classica, in particolar modo con la riforma di Temistocle, non soltanto a pensare appunto a una qual certa tipo di navigazione, ma anche a costruire una vera e propria flotta. Quindi se appunto si dice che Sparta è una città anomala da un punto di vista militare perché utilizzo sempre una struttura di stampo oligarchico e gli Spartiati combattevano in terra dalla mattina alla sera. Atene fu una città anomala da un punto di vista appunto della flotta perché fu una delle poche città che intervenne tantissimo nella costruzione di una flotta specifica anche da guerra, non solo quindi appunto al commercio ma appunto anche alla costruzione di navi. Sappiamo specificatamente che appunto con la riforma di Temistocle, quella che fu fatta prima della seconda guerra greco persiana, quindi prima del 480 avanti Cristo, dove appunto data della battaglia di Salamina, Temistocle convinse i suoi concittadini a ridistribuire il ricavato delle miniere dell'Aurion per la costruzione di navi, di una flotta. Sappiamo che comunque gli Atenesi ebbero sempre dalle 200 a 400 trireme perché in quel periodo storico a un certo punto nell'età classica, a partire dall'inizio del V secolo, le navi da guerra erano triremi, quindi in pratica c'erano degli uomini che remavano e quindi queste navi andavano sulla base dei rematori che remavano. E' interessante notare che chi prendeva posto in queste navi? Diverse persone, c'erano gli aristocratici che prendevano posto ma a un certo punto poi con le diverse riforme anche i cittadini normali. In fin dei conti anche da un punto di vista del rapporto militare non bisogna mai dimenticare che erano i civili a diventare militari, quindi quando c'erano le guerre i civili, coloro che avevano diritti politici, smettevano di fare quello che facevano e poi andavano a combattere. Bisognerà poi solo a stendere appunto la riforma di Pericle, quella appunto che parlerà dei nullatenenti per fare in modo che anche chi appunto è nullatenente possa partecipare alla difesa del territorio e quindi prendere parte dunque alla difesa del territorio andando quindi a remare per fare in modo che dunque possa in potenza partecipare alle cariche politiche, alle cariche pubbliche. Attenzione anche gli schiavi rimavano spesso ovviamente gli schiavi ricevevano una paga come tutti gli altri quindi come un aristocratico come un uomo che aveva diritti politici però al contempo c'era dire questo che gli schiavi nel momento in cui ricevevano la paga questa paga andava in fin dei conti al loro padrone quindi non è che la tenevano loro. Certo poi talvolta capitava anche che ci fossero degli esperti e quindi anche talvolta mercenari che venivano pagati per dirigere appunto queste navi. E comunque sia perché questi erano esperti dobbiamo sempre ricordarci che non è un caso che i cittadini spesso e volentieri in fin dei conti non erano mai stati sulla nave le prime volte quindi dovevano imparare a remare e a guerreggiare cosa che spesso i mercenari già sapevano fare questo è un altro presupposto. Ora com'è che Atene riuscì a costruire velocemente una flotta o comunque relativamente velocemente? Beh perché aveva le miniere dell'Aureon quindi queste miniere d'argento favorirono appunto il fatto che Atene riuscì nella costruzione di queste navi. Oltretutto attenzione com'è che Atene riuscì a mantenere la costruzione delle navi il costo della costruzione delle navi all'interno dell'antica Grecia ma poi considerando appunto le polis greche quello che si potevano permettere era estremamente importante. Quindi com'è possibile ci si può chiedere che Atene riuscì a riuscire a gestire una così ampia flotta per quell'epoca? Beh perché oltre alle miniere dell'Aureon aveva anche dopo la seconda guerra greco persiana il controllo della lega degli Oattica quindi in questo senso gli alleati continuavano a pagare Atene in tasse. Atene sulla base del fatto che diceva che i persiani sarebbero tornati c'era sorta era nata questa lega degli Oattica tale per cui tutti gli alleati pagavano ad Atene delle tasse in prospettiva dell'arrivo dei persiani che poi in realtà non sono mai arrivati. A un certo punto Atene ha creato questo tipo di monopolio di fatto riuscendo quindi a acquisire sempre più denaro per mantenere dunque la flotta. Bisogna solo aspettare un intermezzo che sarà quello dopo la sconfitta della guerra del Peloponneso in realtà la partita della flotta in Sicilia in cui le navi Atenesi arriveranno circa a 12 navi quindi praticamente da un numero che va da 200-400 navi verrà ridotto a 12 navi Atene perderà in Sicilia quasi tutta la flotta. Questo quindi è un altro presupposto però poi riuscirà a ricostruirla piano piano anche in un secondo momento dobbiamo pensare anche che i cittadini stessi successivamente nel IV secolo a.C. soprattutto gli aristocratici interverranno in questo senso a dare anche parti del loro denaro per la ricostruzione della flotta e non di meno anche ci sarà un intervento persiano i persiani daranno del denaro agli Atenesi soprattutto dopo la prima parte della guerra di Corinto dopo che appunto in primo luogo dobbiamo ricordarci che la guerra di Corinto era nata e si era sviluppata perché c'era stato un conflitto tra spartani e persiani e quindi in questo senso i persiani poi decisero anche di investire il loro denaro verso gli Atenesi per fare in modo che le polis greche confliggessero tra loro. Questo senso quindi in realtà riusciamo un po' a capire come gli Atenesi riuscirono a mantenere la costruzione delle navi. Non di meno perché anche la Macedonia interessante? Beh la Macedonia era importante e interessante per Atene perché l'Attica in fin dei conti non aveva una grande disponibilità di legna e invece la Macedonia ne aveva perché aveva tanti boschi quindi gli Atenesi erano davvero interessati direttamente alla Macedonia appunto per riuscire a mantenere la costruzione della flotta perché appunto i boschi hanno tante piante, alberi e gli alberi sono fatti di legno. Ecco dunque l'interesse da parte di Atene nei confronti della Macedonia e qual era appunto la regione, la zona da cui gli Atenesi prendevano soprattutto il legno per fare le navi. Ciao!